Ricordo ancora l'emozione di quando sono entrata nella casa del primo bambino che avevo in assistenza, che era veramente stanco di andare avanti e indietro in ospedale e quindi era un ragazzino di dieci anni che mi diceva ma allora da qui in avanti vieni tu e quindi io non devo più andare in ospedale, me le fai te e le flebo a casa. E io dicevo certo vengo io adesso e lui mi ripeteva allora però devi venire alle quattro perché alle quattro così guardiamo insieme i cartoni animati mentre faccio le flebo perché prima io ho da giocare. L'ospedale per quanto possa essere bello e colorato, i clown, tutto quello che l'ospedale pediatrico mette a disposizione però non è mai come la tua casa. Mi piace molto anche il lavoro con gli adulti però quello con i bambini e con gli adolescenti in particolare perché il loro sorriso e la loro gratitudine veramente ripaga di tanti sacrifici.